Cosa cucino per le feste? Lo so che ve lo state chiedendo anche voi, allora il primo ve lo suggerisco io, questa pasta alla boscaiola. E con questa il successo è davvero assicurato, perché è davvero buonissima. Così cremosa che davvero conquista tutti. Ma partiamo dagli ingredienti necessari per prepararla, ma vi ricordo che trovate la ricetta completa sul mio sito tuorlorosso.it. Partiamo dalla salsiccia che andrà sgranata, così da privarla del suo budello. Facciamo un taglio sul budello e ricaviamo quindi la parte interna, in questo modo. Dovremo poi ridurre in pezzi più piccoli. Dedichiamoci ora ai funghi champignon, che dovremo privare della base, dove c'è la radice, e della sfoglia più esterna, aiutandoci con un coltello, in questo modo. Renderemo così i nostri funghi bianchi e davvero perfetti. E adesso, con un panno pulito e umido, andiamo a rimuovere ogni residuo di terra. Mi raccomando, non lavate di sotto l'acqua corrente, perché i funghi tendono ad assorbirla. Adesso non ci resta che ridurli in fettine, più o meno grandi, a seconda dei vostri gusti, e mettiamo momentaneamente da parte. All'interno di una padella facciamo soffriggere una cipolla tritata finemente con dell'olio extravergine d'olive. Dopo un paio di minuti, versiamo anche la salsiccia che abbiamo sgranato poco prima. Facciamo andare a fiamma alta, così da farla rosolare completamente. Sentirete già che profumino! Possiamo ora versare i funghi, che abbiamo ridotto in fette prima, e continuiamo a far andare a fiamma alta. Aggiustiamo quindi con del sale e, se lo gradite anche, con del pepe nero macinato in base ai vostri gusti. Faremo proseguire la cottura ancora per qualche minuto. Soltanto quando i funghi saranno pronti, possiamo versare la passata di pomodoro e dell'acqua, così da diluire la nostra passata. Mescoliamo e facciamo proseguire ancora la cottura, sempre a fiamma medio alta. Nel frattempo, possiamo cuocere le penne in abbondante acqua salata, portata ad ebollizione, e al condimento aggiungiamo della panna da cucina. Il profumino è davvero strepitoso! Guardate che meraviglia! Quando la pasta sarà al dente, possiamo scolarla e versarla sul condimento, e facciamo quindi saltare ancora per un paio di minuti, così da amalgamare bene tutti gli ingredienti e cospargere la nostra pasta con il condimento. Ultimo tocco del prezzemolo tritato. Mescoliamo ancora a fiamma spenta e la nostra pasta alla boscaiola è pronta. Non ci resta quindi che impiattare e portare a tavola. Il profumo è delizioso, una pasta cremosa davvero, davvero buonissima. E con questo il successo è davvero assicurato perché è davvero buonissima. Un piatto da provare!